Con Carlo Pallavicino, procuratore, parliamo dell'eliminazione del Milan per mano del Barcellona. Troppo forte il Barça o troppo piccolo il Milan? Troppo forte il Barça, se c'è stata un'anomalia, è stato evidentemente il 2-0 dell'andata. In questo momento, malgrado qualcuno parli di scricchio lì, il Barcellona resta ineluttabilmente la squadra più forte al mondo. Ieri sera ha fatto una partita straordinaria, di fronte alla quale credo che nessuna squadra l'abbia potuto resistere. Il Milan forse ha una sola responsabilità, quella di non aver avuto quei giocatori in attacco che potessero creare qualche apprezzione al Barcellona. In queste partite si sa decisiva la capacità di penetrazione che può avere il contropiede della squadra che gioca contro il Barcellona. Ieri sera effettivamente il Milan in quello è un po' mancata, ma non gli si può imputare nulla. Quindi non cambia niente anche per il futuro di Allegri? Questa sconfitta, questa eliminazione non muterà la valutazione sul tecnico rosso-nero? No, anche perché questa eliminazione porterà sicuramente nuove energie da trasferire sul campionato. E a questo punto, da un certo punto di vista, dato che pensare di vincere alla Champions League era onestamente impensabile quest'anno per una squadra come il Milan, forse essere usciti con la squadra più forte può da un lato mettere l'animo in pace e dall'altro invece dedicare tutte le risorse al campionato, che è il vero obiettivo, o meglio, la qualificazione Champions diretta è il vero obiettivo per il Milan e dunque a questo punto prevede una bellissima sfida a Milan-Napoli. Quante sono in questo momento, secondo te, le possibilità del Milan di arrivare addirittura al secondo posto? Sono alte, sono alte perché sono convinto che ci sono tutti i crismi per una squadra che negli ultimi mesi ha fatto più punti di tutti e ha ovviamente in serbo Ballotelli per poter fare un finale di stagione all'altezza di quella che è stata tre quarti di stagione, perché se si escludono le prime nove giornate il Milan è stata una squadra praticamente in lotta per lo scudetto. Parlando invece dell'Inter, si discute molto sulla panchina nera azzurra del prossimo anno, in questo momento chi vedi favorito, senza dimenticare che comunque c'è ancora Stramaccioni sulla panchina nera azzurra? Sì, c'è ancora Stramaccioni e sicuramente è molto corretto che l'Inter stia facendo di tutto per tutelarlo, parlando di lui anche in prospettiva per il prossimo anno. È però comprensibile e logico pensare che avverrà il cambio e mi preoccupa, per Mazzari ovviamente, non per me, il fatto che sia un po' troppo tempo che si parla di lui e che sia in una posizione di pole position, un po' come tanto per coniare le elezioni che stanno accadendo in questo periodo in Vaticano, si rischia che entri Papa e esca Cardinale. Quindi in questo caso io sono consapevole che se Moratti ha la possibilità, e l'avrà avuta sicuramente, di parlare con Mazzari, capirà quanto Mazzari sia un allenatore straordinario. Però, conoscendo le correnti, gli umori interisti, io credo che ci possano essere tante altre soluzioni che sono al vaglio in questo momento della società nera azzurra e tra questi vedo, oltre a Laurent Blanc, anche Stefano Pioli. Stefano Pioli che a questo punto sembra essere maturo per una grande panchina. Sì, è un allenatore ormai di provata esperienza, visto che sono dieci anni che fa panchina a livello professionistico ed è soprattutto un uomo, una persona, che potrebbe saper reggere e vivere le pressioni di una piazza come quella di Milano. Pioli è un giocatore che è nato alla Juventus e quindi ha l'esperienza del grande club. Parlando di qualche giocatore da te assistito, Sirigu tornerà in Italia il prossimo anno? No, non credo perché sta facendo molto bene al Paris Saint-Germain, dove ha appena abbattuto il record storico dell'imbattibilità dei portieri del PSG e quindi il suo futuro credo che sarà ancora in Francia, anche perché Paris Saint-Germain, ricordiamolo, è appena approvata ai quarti di Champions, ovviamente. In Italia invece De Ceglie, quale sarà il suo futuro? De Ceglie ha un contratto molto importante con la Juventus e penso che continuerà così per lunghi anni, essendo un prodotto del vivaio ed essendo un ragazzo che è nato bianconero e ha tutta la volontà e il desiderio di fare una carriera simile a Marchisio, simile a Giovinco, sempre in maglia bianconera.